Buonasera a tutti, vi porto il saluto dall'amministrazione comunale, forse non tutti i sannazaresi sanno che già nel 1906 la banda Iris suonava nel civico teatro Bianconi che era qui alle mie spalle dove adesso c'è il vecchio municinio l'augurio è quello di trovarci a sentire questa musica anche per i prossimi 104 anni, grazie alla banda Iris e grazie a tutti voi e ho sentito il signor Colombi che ha detto io fra 104 anni ci sarò senz'altro, ha già prenotato il post mi permetto di scherzare perché grazie al circolo musicale Iris, a tutti i bandisti, al maestro Garbarini, al maestro Meteo, al presidente Strada veramente si è creato negli anni un clima familiare, quindi salutiamo in primis il presidente Vittorio Strada e prima di presentare i brani, i pezzi e la scaletta che andremo ad eseguire facciamo un grande applauso ai protagonisti di questa sera, i signori bandisti della banda Iris stand up please, in piedi, è l'unica volta che ve lo ordino, poi ci pensa il maestro che siamo in piedi proprio per introdurre colui il quale dirigerà il concerto di questa sera signori ho l'onore di introdurre il maestro Franco Garbarini ven arrivato grazie grazie Grazie. 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 Grazie.